ciao ragazzi sono riccardo bentornati nel mio canale youtube nel mio piccolo laboratorio oggi guarderemo l'incisore laser atom stack a5 m50 pro un incisore da 40 watt di potenza che monta un modulo laser del 5 watt e mezzo ora guarderemo la macchina per bene da vicino vedremo come fatta tutte le sue caratteristiche vi farò vedere anche quello che sono riuscito ad ottenere sia per quanto riguarda le incisioni che per quanto riguarda i tagli si trova sul web ad un prezzo che oscilla fra 410 e 450 euro circa come sapete sul web i prezzi cambiano sempre molto velocemente variano fra un sito e l'altro il prezzo è aggiornato a oggi mentre sto registrando il video potrebbero anche cambiare nel tempo speriamo diminuendo e cercherò di farmi lasciare anche un codice di sconto per farvi risparmiare il più possibile adesso guardiamolo da vicino e vediamo i lavori che sono riuscito ad ottenere iniziamo ma prima di iniziare come sempre guardiamo un rapido unboxing ed il montaggio della macchina sulla parte alta della confezione troverete questa lamiera in acciaio che serve a proteggere il piano di lavoro verrà fornito anche un manuale di istruzioni riguarda sia il montaggio che l'utilizzo del software ovviamente anche l'alimentatore da 12 volt 5 ampere un cavo usb una busta con del materiale per fare le prime prove più alcune fascette le cinghie per trainare i vari carrelli una penna usb e qualche vita il display per poter utilizzare l'incisore laser anche senza l'utilizzo del computer il cavetto per poter collegare il display al controller il controller con il fungo di emergenza l'ingresso per l'alimentazione l'ingresso usb l'ingresso per la micro sd il tasto di avviamento è il tasto di reset da questa parte invece abbiamo l'ingresso per il capo che vi ho appena fatto vedere hdmi il carrello e il supporto per il modulo laser il profilo anteriore ed il profilo posteriore il cavo di alimentazione con la presa asciuco il modulo laser con la stessa colorazione di tutta la struttura la parte alta questa volta la copertura rossa e non trasparente e richiama la copertura sulla parte bassa poi il solito pomello per poter bloccare lo scorrimento e regolare la messa a fuoco i due profili laterali e ed è presente anche il sensore di fine corsa e tre piedini ne troviamo soltanto tre perché il quarto piedino è lo stesso controller e infine un pennellino come siamo abituati sugli incisori laser della atom stack troviamo delle bustine ho riportato step 1 step 2 e step 3 all'interno troviamo le varie viti che ci servono per riunire le varie parti quindi utilizzando le vite all'interno della bustina contrassegnato con step 1 iniziamo il montaggio abito leggermente tanto quanto basta per mantenere la ferma non stringete fino in fondo attendete di inserire anche la seconda vita dopodiché potete stringerle nei profili laterali troverete dei fori da una parte ci sono dei fori più grandi dall'altra parte invece sono più piccoli quelli più grandi servono per accogliere la testa della vita quindi devono stare all'esterno se deciderete di utilizzare un avvitatore assicuratevi che sia dotato di frizione quindi che non danneggi le superfici nella quale state lavorando e che non rompa la stessa vita adesso si può inserire il carrello ma fatelo dalla parte posteriore perché dall'altra parte ci sarà il sensore di fine corsa che vi impedirà di inserirlo basta semplicemente centrare le ruote sul profilo spingere in avanti e lo stesso si inserirà adesso avvitiamo i piedini semplicemente sfruttando i fori già presenti utilizzeremo le viti nella bustina step 2 e le eviteremo sul profilo una di queste viti sarà più corta perché verrà utilizzata per la parte del controller da questa parte dovrete inserire la vita più lunga invece da questa parte la vita è più corta step 2 completato adesso passiamo allo step numero 3 consiste nell'inserire le cinghie nelle apposite guide che permetteranno lo scorrimento del carrello dovete far passare la cinghia sotto una delle due ruote quando vi trovate a metà della stessa inserita un cacciavite utilizzate una pinzetta sollevate la cinghia la afferrate la fate passare sopra a questa ruota dentata fatela scorrere in questo modo dopodiché la fate passare sotto la seconda ruota spingete e lavoro è fatto da questa parte potrete sollevare la cinghia nuovamente con il cacciavite ok lavoro è seguito lo stesso lavoro va fatto dalla parte opposta adesso dovete utilizzare questo sistema di vita è dato come vedete a una forma particolare da una parte tonteggiante dall'altra parte invece a uno spigolo vivo questo serve a fare in modo che una volta avvitata all'interno del profilo ruotandosi blocchi in automatico e quindi continui ad avvitarsi automaticamente all'interno del profilo permettendoci quindi di bloccare la nostra cinghia nel caso in cui non dovesse riuscirci potete utilizzare una brugola inserirla da questa parte dopodiché spingere all'interno del profilo e ruotarla e quindi potreste avvitarla direttamente quando il dato nella posizione corretta all'estremità dei profili dovete montare pure questi tappi potete lasciarla pure senza ma indubbiamente è molto più bella con i tappi inseriti ora i collegamenti come vedete hanno tutti la lunghezza che ci fa capire quale sia la loro posizione questo va nel sensore di fine corsa in basso questo va sul motore che troviamo da questa parte il piccolo va invece sul sensore di fino a corsa che troviamo da quest'altra parte e questi due servono ad alimentare il motore ed il modulo laser ovviamente ogni connessione avrà una dimensione è un numero di pin differenti quindi sarà impossibile sbagliare ed invertire collegamenti il modulo laser va inserito semplicemente facendo scorrere queste due sporgenze in questa guida svitate prima il pomello dopodiché lo posizionate e stringete nuovamente in modo a fermarlo adesso possiamo collegarlo questo è il display touch come vi dicevo poco fa va inserito l'ingresso hdmi da questa parte dopodiché va connesso sul controller la parte posteriore del display è magnetica quindi possiamo posizionarla da questa parte oppure possiamo poggiarla su qualunque altre superficie metallica ok adesso è davvero pronto e ora utilizziamo le fascette per fissare il cablaggio abbassate prima il laser il più possibile e lasciate un minimo di gioco perché se stringete la fascetta con il laser sollevato poi non potrete più abbassarlo questa è un'etichetta con tutte le informazioni che riguardano la macchina da quest'altra parte invece abbiamo un'altra etichetta con le informazioni riguardanti la sicurezza i profili sono in alluminio sono molto solidi e robusti questo è il modulo laser è possibile regolare la sua altezza semplicemente svitando ed abitando questo pomellino quindi sollevandola per poter mettere a fuoco e per poter regolare la messa a fuoco sarà sufficiente utilizzare questo pezzettino in plexiglas che viene dato in dotazione infatti questa sarà la distanza che dovremmo avere fra la base del modulo laser e il pezzo da incidere i movimenti sono azionati da questi motori passo passo e grazie a questa cinghia dentata riesce a permetterci dei movimenti molto precisi è presente un solo motore per quanto riguarda il movimento dell'asse y che grazie a questa asta trasferisce il movimento a quest'altra cinghia e quindi i movimenti saranno molto precisi e sincronizzati tutte le connessioni come avete visto durante l'assemblaggio sono molto semplici basta inserire questi connettori e la macchina si monta in pochissimo tempo sulla parte alta del modulo laser abbiamo questa copertura di colore rosso che protegge l'elettronica più in basso invece abbiamo un filtro che protegge i nostri occhi e questo è un filtro che funziona davvero infatti protegge fino al 95 per cento evitando che le emissioni e raggi del laser possano danneggiare i nostri occhi comunque vi consiglio sempre di utilizzare delle protezioni extra perché potrebbero verificarsi dei riflessi soprattutto se si incide su superfici relativamente lucida io infatti utilizzo questi occhiali che vi consiglio e vi lascerò il link nel primo commento e nella descrizione per poter dare un'occhiata ed eventualmente acquistarli l'area di incisione è 41 x 40 cm ma è possibile estenderla fino a 41 x 80 cm questo ci permette quindi di lavorare anche su superfici molto molto grandi comunque anche 40 x 41 obiettivamente non sono assolutamente pochi ma spendiamo due parole anche su questo modulo laser innanzitutto è fatto davvero molto bene sia per quanto riguarda la finitura che per quanto riguarda i materiali utilizzati lo schermino protettivo si può rimuovere agendo su questa brugola quindi sfilandolo io vi consiglio però di lasciarlo montato sull'etichetta possiamo vedere modulo laser da 5 watt sul sito ha riportato 5 watt 5 watt e mezzo perché questi moduli laser hanno questo range di potenza da 5 a 5 watt e mezzo e a fuoco fisso quindi non troviamo alcuna ghiera per la regolazione della messa a fuoco che come vi ho fatto vedere va regolato tramite il pomellino ed è long focus quindi la sua lunghezza focale ci permette di tagliare con molta più facilità in teoria dichiarano fino a 20 mm io ho fatto una prova fino a 10 mm con 9 passaggi una potenza dell 80 per cento sono riuscito quasi a tagliarlo ora vi farò vedere basta spingerlo e penso si staccherà con più passaggi probabilmente sarei riuscito a tagliare anche 20 mm ma non avevo un pezzo da 20 mm quindi non ho fatto questa prova è un modulo comunque relativamente silenzioso durante il lavoro e sulla parte bassa troviamo questo cono che ci permette di convogliare l'aria che viene soffiata sul punto di incisione non è un air assist però in parte contribuisce e infatti come potrete vedere nelle incisioni non ci sono praticamente segni di bruciatura cosa che con molti moduli laser invece accade una volta posizionato sul suo supporto rimane molto stabile saldo non è soggetto a vibrazioni quindi questa è una cosa positiva perché non va a influire sulla qualità dell'incisione e ora vi faccio vedere quello che sono riuscito ad ottenere allora non ho fatto moltissimi lavori perché sappiamo che atom stack ha un'ottima qualità vi ho recensito già diversi moduli laser e ve ne recensierò tantissimi altri il primo lavoro che ho voluto realizzare è stato il taglio su questo compensato da 4 mm di questo planisfero innanzitutto voglio farvi vedere la precisione un punto laser così piccolo ci permette di ottenere delle incisioni guardate davvero spettacolari una precisione elevatissima e l'ho realizzato con una velocità di 50 mm di una potenza dell'80 per cento devo dire che effettivamente a quella velocità e con quella potenza solitamente si creano moltissime bruciature qua invece sono appena percettibili e dove necessario con un colpo di carta abrasiva si rimuove questo alone ma obiettivamente è davvero pochissima e solo in alcuni punti solitamente con questa potenza e questa velocità la bruciatura si espande si vede in modo molto più incisivo guardate anche qua questa praticamente è cenere non ho voluto rimuoverla per farvi vedere quale sia la sua precisione di incisione questo pezzo praticamente è quasi sospeso ottenuto solo dalla cenere e rimane comunque attaccato sia qua che qua come vedete un lavoro davvero di altissima precisione poi vedrete quello che realizzerò con questo planisfero all'interno di questa bustina ho conservato tutte le varie isole ed isolette ovviamente non ho inciso gli arcipelati altrimenti mi sarei perso perché sono dei pezzi davvero molto piccoli dopodiché ho provato ad incidere anche su questo coltello ho inciso il mio logo guardate che precisione si tratta di un incisione di soli 12 mm si vedono tutti i dettagli con molta precisione mi piace davvero come ha lavorato ma da questa parte non realizzato un altro di soli 10 mm solo che la potenza era molto più ridotta quindi non si vede molto bene davvero molto preciso e questa invece è una prova di taglio questo è un compensato da 10 mm come sapete nel compensato c'è colla sono strati disposti in maniera differente gli incisori laser spesso hanno difficoltà volevo farvi vedere anche in questo caso la differenza di qualità fra una potenza elevata e una bassa velocità e una potenza ridotta e un'alta velocità ovviamente con un numero di passaggi superiore in questo caso ho fatto quattro passaggi al 100 per cento a 80 mm di velocità e non sono riuscito assolutamente ad eseguire il taglio e inoltre ho ottenuto una superficie molto bruciata poi invece ho ridotto all 80 per cento di potenza ho fatto 9 passaggi a 250 mm di velocità guardate praticamente il pezzo si è già staccato e la qualità è sicuramente superiore rispetto a questa con qualche altro passaggio alla massima potenza sarei riuscito a tagliare anche questa parte infatti eravamo già quasi passati dalla parte opposta ma la qualità dell'incisione del taglio sicuramente non sarebbero stati gli stessi sarebbe stato un pezzo tutto bruciato praticamente quasi inutilizzabile quindi 10 mm riesce a tagliarli tranquillamente e con un numero di passaggi più elevato probabilmente sarebbe riuscito a tagliare anche 20 mm quest'altra invece è un'incisione che ho voluto realizzare per vedere la precisione nei dettagli questo è il volto chiaro scuro di una donna con queste ombre sul corpo come vedete tutti i dettagli sono stati incisi molto molto bene anche sui capelli quindi riesce a rispettare bene tutti i dettagli anche quelli più piccole grazie alla precisione del punto laser forse avrei dovuto impostare meglio il rapporto fra potenza e velocità per evitare di avere queste bruciature in alto comunque per quanto riguarda la qualità davvero eccezionale questi invece sono tre loghi harley davidson come vedete anche in questo caso regolando il rapporto fra potenza e velocità ottenuto dei risultati differenti questo è quello che mi piace di più ed è stato il primo che ha realizzato come vedete tutta l'incisione omogenea e tutti i dettagli sono stati incisi perfettamente non ci sono bruciature ma non esiste una vera e propria regola per quanto riguarda gli incisori laser si incide in base ai gusti personali oppure se per lavoro in base ai gusti del cliente però ho voluto fare altre prove anche per farvi vedere cosa accade se non impostate bene il rapporto fra potenza e velocità in questo caso con una potenza elevata ma non proporzionata alla velocità come vedete ho ottenuto alcune bruciature in alcuni punti di conseguenza poi adeguato la velocità nella terza incisione del logo le bruciature sono molto molto meno quindi lavorando su questi parametri si possono ottenere dei risultati differenti ho deciso di realizzare tre incisioni con diversi rapporti fra velocità e potenza proprio per farvi vedere i risultati differenti che si possono ottenere a qualcuno potrebbe piacere questo tipo di logo a io preferisco questo però obiettivamente riconoscono che per il tipo di logo questo effetto vintage bruciacchiato effettivamente ci sta e quindi dato che tutto è legato ai gusti personali si può decidere di decidere con più o meno bruciatura con una marcatura maggiore o minore rispetto ai gusti di ognuno di noi e ora indosso gli occhiali e vi faccio vedere anche il display e facciamo una rapidissima prova di incisione allora innanzitutto mettiamo a fuoco ma assicuratevi quando incidete una superficie della stessa non sia imbarcata altrimenti se mettete a fuoco da una parte non sarà messa a fuoco da un'altra e tramite il display touch posso realizzare delle incisioni per poter fare ciò però dobbiamo inserire una micro sd all'interno dell'alloggiamento altrimenti ci verrà dato l'avviso no sd card quindi la inserisco e vi faccio vedere come lavora ok come vedete abbiamo la possibilità di scegliere due file che troviamo già all'interno della sd quindi utilizziamo il secondo file cutting dog praticamente ci permette di eseguire una sagoma un taglio di una sagoma di un cagnolino su questa superficie tramite questi comandi abbiamo la possibilità di avviare la stampa di spostare il nostro modulo e possiamo scegliere spostare di 01 un millimetro oppure 10 mm così diciamo che questa è la posizione da cui deve incidere da questo altro comando invece realizzeremo il frame che ci dimostra quale sarà la posizione dell'incisione come vedete andiamo un po fuori quindi dobbiamo posizionare la superficie correttamente con quest'altro comando invece centriamo il modulo laser al centro dell'area di incisione con quest'altro invece la portiamo in home a dei sensori di fine corsa quindi in automatico andrà a posizionarsi nell'angolo in alto a sinistra ma noi dobbiamo realizzare un'incisione da questa parte quindi spostiamola di nuovo e avviamo la nostra incisione a questo punto possiamo premere play per avviare l'incisione ma prima dobbiamo decidere quanti passaggi vogliamo fare diamo ok è in automatico come vedete sta iniziando però noi possiamo decidere se interrompere l'incisione metterla in pausa ma possiamo anche lavorare sulla sua potenza oppure sulla sua velocità quindi la blocco lo conferma e in questo caso l'incisione si è arrestata e questa è la qualità dell'incisione come vedete molto molto sottile molto precisa punto di incisione 0 8 per 0 8 con una precisione 0 1 millimetri ci permette di avere una qualità davvero molto elevata della linea e sia per realizzare tagli che per realizzare l'incisione potete utilizzare diversi tipi di software i più diffusi più famosi sono laser grbl che comunque è gratuito e la barn si scaricano da internet la barn si paga direttamente su internet tramite carta di credito invece al laser grbl è totalmente gratuito e lo trovate anche all'interno della sd ci permette di ottenere degli ottimi risultati sia per quanto riguarda i tagli che per quanto riguarda le incisioni ovviamente però le funzioni sono molto molto di meno rispetto a light barn ma per quanto riguarda la macchina abbiamo visto comunque che è molto ricca di funzioni molto accessoriata molto sicura perché anche il tasto di emergenza facile da utilizzare anche non essendo collegata al pc perché ci permette di inserire la scheda quindi lavorare comodamente lontani dalla postazione che abbiamo nel computer perché se l'incisore laser lo teniamo in garage e pc e in casa abbiamo la possibilità di non doverlo trasportare ad ogni volta cosa dire ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto spero che vi sia piaciuto soprattutto il prodotto vi lascerò il link giù nel primo commento nella descrizione per dare un'occhiata ai vari siti online quindi poterlo acquistare spero di ottenere un bel codice di sconto per farvi risparmiare non mi rimane che invitarvi ad iscrivervi al canale mettere mi piace al video cliccare sulla campanella qua giù per rimanere aggiornati e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti ciao da riccardo e a presto